Ciao a tutti ed eccoci qua in Animal Crossing Happy Home Designer Sono qui con la Marena, mi ha chiesto una casa per fare una sfilata Adesso bisogna imparinarci un attimo, vediamo qua Prima di tutto cosa fare all'esterno Allora vediamo qua c'è un bel bar e pen di abiti Parrucca funky Allora intanto Facciamo questo qua Allora, cambiamo tutto Fermi, fermi C'ho da fare tutto, un cambiamento esterno Vediamo un po' che casa ci hanno messo Questa non mi piace per una bella sfilata Ci metto questa, ok Molto palazzo Medioriente Poi metto questo Questo, ok Anzi così, così E se facessi così Oh, perfetto, aspetta No, poco spazio per quello che volevo fare Aspetta un attimo No, questa mi sta così Non posso giurarla Ok, va bene Allora farò questo picchiettamento così Perfetto, ho fatto questo corridoio Mi serve un tappito rosso L'ho sbagliato I tappiti sono dannati a parte Eccoci qua Un bel tappito rosso Dov'è il tappito rosso? Questo è Passerella Ma è questo M Ok Ottimo Così è perfetto Sì Ah, poi L'esterno Devo sempre trovare l'esterno Lo vorrei Questo rosso qua Il davanti del palazzo Invece lo vorrei Lo vorrei Vediamo un po', scorriamo Esterno favola Perfetto Eh, qui l'ho messo Acqua Ci metto Un bel Nilo E poi qua ci metto No, anzi Cambio Ci metto le palme Questa palma qua Bom, così mi piace Un'altra palma di qua Perfetto Cambio Staccionata Ci metto Una bella Staccionata Picchietta così No Quale ci potrei mettere? Questa Favola Perfetto Dei fiori Sì, sì, sì Anzi Dei cespugli Questo libisco rosso Lo metto qua Perfetto Ok Qua l'hibisco Ancora di qua Ci metto un altro po' Di libischi Rossi sempre Due Due E tre Benissimo Ok Possiamo entrare all'interno Di questo Castello Fiabesco E Adesso Prepariamo Una sfilata Ho fatto tutto il corridoio lungo Perché qua giù Allora ci metterò Il camerino Poi mi devi fare La cabina Per cambiarsi Allora aspetta Cambio Così la cabina Qua Dove ci sono i vestiti Olala Qui i faretti Aspetta Faccio un corridoio di faretti Aspetta 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 Anzi faccio Ecco Faccio così Che bellissimo Uno qua Uno là Uno qua Uno là Però prima Dovrei mettere un pavimento Altrimenti E di qua ci passa Sì 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 Allora Al muro Al muro Dovrei metterci qualcosa di shweak Ma io invece che qualcosa di shweak Ci faccio Muro Con platea Eccola qua Così Abbiamo Le finestre Come sono Si Con lice oro Le tendine Mi servono così Veneziano Perfetto Il muro Completato Così ho già Tutto attorno Il pubblico Insomma Sembra che ci sia il pubblico Quindi mi sposto Tutti i faretti di qua Che mi fanno la video Perfetto Così metto Tutte le seggioline Di qua Per le sfilate Privé A terra Mi manca sempre Il pavimento A terra Non andiamo tanto oltre Per favore Allora A terra Vediamo che pavimento Potrei utilizzare Questo Illusione No Questo Perfetto Lui Mi serve proprio lui Ok Altro corridoio Qua Devo fare un corridoio Da dove si possa Così Sfilare Proprio all'interno Perfetto Ok Il momento di Questa è tutta la passerella Ci metto un po' Di seggioline Vediamo che seggiole Ci potrei inserire Per Per il pubblico Queste Molto Shriek Queste Panche Aspetta Fammi giurare A panche Aspetta Fammi giurare Ok Perfetto Una panca Qui al fine Corsa Rispetto Di prima fila Poi Qui Così Guarda Perfetto E un'altra Panca Qua Ottimo Ok Qui mi serve Un separè È importante Questo No cat chic No no Ma ci sta meglio Il tappeto Rosso Mi serve Un separè Quindi andiamo subito Allora Prima del separè Mi serve A parte ho le luci basse Però Sinceramente Due faretti Qua Che mi puntano Qua giù in fondo La curva Per dire La 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 Questa la passerà Perfetto Ok Ok Fa certo Che mi servono Due faretti Anche di qua Altrimenti Qua non si vede All'interno Degli spogliati Mi serve Il separè Continuo a dire Mi serve Il separè Non Tergiversiamo Andiamo subito A prendere Un separè Oltre Un quadro Qua E altre rose Di qua Perfettissimo Sì Vorrei Continuo a dire Il separè Perché poi Mi perdo Può darsi Che sia qui Sì Eccolo qua Così Un bel Separè Qua Ok Qui Eh no Così Non mi ci sta Quindi Mi serve Così Forse Se lo metto Così è già meglio Perfetto Così escono Da quale parte La sfilata Perfettissimo Ok Ci siamo Ci siamo Vediamo Che cos'altro Ha portato La parrucca La metto qua Si esce Insomma Intanto Ok Si esce Madonna Un po' Forzatamente Ma si esce Il cappello E lo mettiamo Qui Ok Qua si entra Perfetto Ok Potrei però Fare questo Cosa qua Mettere Questo Più qua Così Che mi ci sta La parrucca Qui E così Esco meglio Si la parrucca Il cappello Allora Potrei mettere La parrucca Più qua Ok Ok però Allora Qui mi servirebbe Mi servirebbe Un panchettino Perché Altrimenti Mi va fuori Mi fa fuori linea Mi serve Anche un po' Perfetto Almeno Che non faccia Così No Quindi Tutto attaccato Ci sta No no Qui non ci sta Perché Questa è troppo Fuori fase Allora Non rimetto Centrale Andiamo a cercare Un'altra Sentula Questo è che Cos'è Passo Giapponese No no Femi Femi Torniamo qua Mi servirebbe Prima di tutto Ci fosse una console Ma non c'è la console Quindi ci metto Niente Non ci sono console Strumenti musicali Tra gli strumenti musicali Mixer Mannaggia Poi questo che cos'è Ora che effetti Ci metto questo Per la musica E gli effetti E mi servono Gli altiparlanti Quanti Ah no Questi sono quelli a terra No Voglio quelli Aerei No Non sono qui Quelli aerei Ma sono di qua Oh no Mi si è bloccato Il tutto A me Camerino Gli oggetti Per cambiarsi Vediamo un po' Ma dai Spettacolo Vai Andiamo a vedere Di pubblicare Di pubblicare Questo codice Als network Delle belle Cansi Quando Arrivo qui Sapete che è il momento Dei saluti Quindi Vi ringrazio Per aver visto il video Fino a qui Come sempre Se vi è piaciuto Mi raccomando Mettete un mi piace Commentate Che appena posso Vi leggo E vi rispondo Quindi Eccolo qua Il codice Se volete andare a visitare Andate pure Prendetelo E votate E adesso È giunto il momento Di salutarvi Ciao a tutti E al prossimo video